Il 100% è usato. Il 99%, mettiamo il 100% perché è così, insomma cercano l'usato perché l'economia lo sai che è quello che è. E la vendita dell'usato sta andando bene, il nuovo zero. Anche quest'anno c'è una stangata, aumenti dei prezzi? Niente, i prezzi sono rimasti invariabili, anche qualche libro è diminuito pure di prezzo perché le rimanenze e l'anno scorso sono nuove e sono diminuite pure. Quindi stangate per i libri non ce n'è. Se da una parte è corsa al libro usato, per molti diventa necessario l'acquisto del nuovo perché i testi diventano sempre più tecnologici. In allegato ai libri troviamo infatti CD, DVD e password per accedere a materiale extra su internet sul quale studiare. Con un particolare, secondo la legge infatti, non possono essere più adottati libri esclusivamente cartacei, la cui IVA al 4% è a carico dell'editore, ma appunto volumi corredati da supporto multimediale, a cui applicate invece l'IVA al 20% a carico del consumatore. Alcuni libri nuovi invece portano materiale multimediale, CD, dei supporti nuovi? Questo sì, questo un 10% sì c'è questa cosa qua. La spesa per le famiglie è maggiore per i primi anni di scuola, poiché alcuni libri durano anche per gli anni successivi, a cui si aggiungono le spese di dizionari per una media di oltre 300 euro all'anno. Per il liceo classico e lo scientifico i rincari più pesanti, 380 invece di 335 euro e 360 invece di 320 euro. Nessun aumento invece per gli istituti tecnici, rispetto al limite massimo fissato dal MIUR, pari a 320 euro. Meno cari anche gli istituti professionali, la cui spesa in base agli indirizzi si aggira tra i 250 e i 300 euro. Testi che rimangono invariati per almeno sei anni per gli istituti di primo e secondo grado, salvo aggiornamenti dei contenuti, secondo il decreto ministeriale del 2009. Alle spese però si aggiungono anche i cosiddetti testi consigliati, ma non con obbligo di acquisto, come libri di narrativa ed eserciziari.